Mi attendo che quel clima mi permetta di dire positivo, cioè ci voglio vedere positività, di voler risolvere il problema si traduca in fatti concreti. Penso che l'assunto sia che i nostri lavoratori non possono lavorare e avere costi di produzione di un polacco che costa un quarto rispetto a un lavoratore veneto. Siamo per salvare il comparto, è un comparto strategico a livello nazionale, è bene che il governo si dia una mossa, si dia con molta velocità, è bene che il governo decida velocemente cosa vuol fare e soprattutto sostenga questo comparto. È un comparto al quale noi non possiamo rinunciare. Il coordinamento dei sindacati ha risultato il piano e ha chiesto se le regioni metteranno qualcosa sul piano. Noi l'abbiamo già detto, siamo a disposizione, fondi per la ricerca, fondi per l'innovazione e quei fondi comunitari che abbiamo e se il governo accetterà di modificare i parametri per le finanziarie regionali, anche fondi delle finanziarie regionali. Questo è quello che possiamo fare, altro o no?